Buon appetito, buon appetito, non ho già fatto tutto, non posso fare in video, bellissima questa, come si chiama questa pesce? Questo dovrebbe essere un branzino, ah per noi due, buon appetito, buon appetito, buon appetito, un po' di piatto da mangiare, tagliolini, tagliolini con astici, con astici. Sì, buon appetito, buon appetito. Monaco e... Parigi e Monaco. Parigi e Monaco. Parigi e Monaco. Parigi e Monaco. Tu eri qua, quarta, quarta posta, dove cera. Cera nei quattro. Cera nei quattro. Non è bello, ma perché un coltello in più? Quattro. Che giama? Parigi. Ragazza. Всем желаю здоровья e добra. Poi venne questa. приятного всем аппетита приятного ужина из речёный причина ресторанта до джорджио под отелем кристалла специалиста пищи я с моими друзьями